Non mi dividerò molto su queste due parole che dirò. Vorrei ringraziare ovviamente la Direzione Artistica del Teatro per aver accolto questa questa suggestione di questo concetto particolare che abbiamo inserito all'interno della Frigia. Che cosa vuol dire suonare? Non lo so bene. Sicuramente c'è il bisogno di esprimere qualcosa e c'è anche il bisogno di farlo davanti della gente. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.